riuscite mi ragionino cosa ci sarà in questo pacco immenso molto grande non è pesante però è grande non è pesante però è grande ah che bello ricevere i doni qua diventa complicato però mio dio ma amici ma cos'è qua mamma mia qua c'è pure un'altra cosa madonna mia mamma mia mamma mia iniziamo da questo piccolino ovviamente spiega dopo bakery da roma salutiamo gli amici che mamma che bella ma è stupenda guardate che bella wow ma cos'è cioccolato bianco non lo so cosa c'è colomba classica pasquale amici stupenda ma voglio vedere innanzitutto questa che è gigante innanzitutto vedete mettiamo questa qua questa qua da proprio la sensazione di essere qualcosa di mo come faccio qua ci vuole un po di tempo ma ce la faremo no non dico ce la faremo che ha portato sfortuna l'anno scorso non ci vuole un po di tempo che è gigante ma che è un ciambellone questo guardate è un ciambellone cos'è come si chiama casati e casatiello ma state scherzando ma davvero è casatiello questo questo cos'è pizza pasquale al formaggio wow wow sono emozionato amici questo cos'è vediamo babà imbaratto no che calmele cannelle in vaso cottura stupendo stupendo amici veramente bello e infine questi qua cosa so va bene questi sono biscotti immagino ciambellini a vino rosso e infine cosa sarà questo scopriamo amici un'altra colombina però questo è differente e col cioccolato col cioccolato dai mamma mia bellissimo bene amici grazie per questi regali bellissimo cerchiamo di diffondere in medititali qualsiasi cosa scrivete un'e-mail in foglioccio del mioagginio.com per quel che posso posso cercare la visibilità ai prodotti italiani scrivetevi al mio newsletter su piramente.com ciao e ordinate anche su giovanamerica.com ciao